sostituire le doghe del letto a mano spiegato semplice ciao sono Matteo Savoldi e se stai guardando questo video probabilmente ti starai chiedendo come sostituire le doghe del tuo letto a mano e facilmente oppure potresti semplicemente avere bisogno di infilare una doga che ti si era sfilata dal supporto portadoga ma senza la necessità di chiamare un falegname o un operaio specializzato infilare una doga è un'operazione che effettivamente può essere semplice se sai come fare per questo ti voglio svelare qualche segreto del mestiere che ti permetterà di lavorare con agilità sostituire le doghe del letto non è un lavoro sempre estremamente facile perché esistono diverse tipologie di rete letto che possono risultare più o meno complicate da lavorare non impossibili le due principali categorie di portadoghe che potremmo trovare nella nostra rete sono i supporti aerei oppure i portadoghe interni al telaio ricorda un piccolo discramer prima di eseguire qualsiasi intervento fai da te ricorda che per la tua sicurezza devi sempre proteggerti con dispositivi di protezione individuali più indicati anche perché queste operazioni le eseguirai a tuo rischio pericolo e se non sei sicuro non hai manualità in caso di qualsiasi altro dubbio non lo devi fare sarà molto meglio chiamare un professionista esperto se stai cercando un servizio di riparazione professionale abiti entro i 20 chilometri dalla nostra azienda di treviglio in provincia di bergamo puoi rivolgerti alla nostra azienda chiamando il numero 0363 40703 oppure inviando messaggio whatsapp sempre allo stesso numero ti ricordo che interveniamo solo entro 20 chilometri dalla nostra sede di treviglio allora come montare le doghe nei supporti aerei sostituire le doghe montate nel cappuccio dei supporti aerei è veramente un'operazione facile se dai un'occhiata alle nostre reti a doghe elettriche ti accorgerai per esempio che sono tutte realizzate utilizzando supporti aerei che possono essere in sbs oppure in tpe doppiamente ammortizzati o rinforzati se vuoi maggiori informazioni sui supporti ti consiglio di leggere un articolo presente sul nostro blog dove ti parliamo dei materiali e delle proprietà dei supporti portadoghe ed è spiegato in maniera veramente semplice applicare o togliere le doghe dei supporti aerei è molto facile innanzitutto perché le doghe sono esterne al telaio e quindi sono facilmente manipolabili i supporti portadoghe aerei vengono generalmente realizzati tra l'altro in materiali molto flessibili questi supporti possono venire piegati verso l'esterno della rete semplicemente con la forza delle mani senza timore che si possano rompere in questo modo sarà molto semplice estrarre o inserire una doga prima di piegare un supporto portadoghe verifica che sia libero da eventuali accessori come per esempio i cursori di rinforzo che potrebbero ostacolare il lavoro di sostituzione delle doghe leggermente diverso è invece il discorso sui supporti in cauciu che nel tempo potrebbero essere diventati secchi questi portadoghe aerei andrebbero manipolati con cura poiché torcendoli anche con una minima forza soprattutto se vecchi potrebbero danneggiarsi quindi si potrebbero spaccare sfaldare rompere se desideri comunque approfondire l'argomento ti consiglio vivamente di leggere il contenuto del nostro blog in cui vengono trattati anche questi supporti l'articolo si chiama quando i supporti delle doghe si spezzano e se i supporti della tua vecchia rete sono in cauciu magari si sono seccati sono cadute alcune doghe per terra e vorresti cambiarla con una nuova rete che abbia innanzitutto dei supporti durevoli chiama o scrivi via whatsapp al 0363 40703 ma ricorda che da noi non troverai il prezzo più basso o i super sconti da noi troverai persone serie che risolveranno in modo professionale e definitivo il tuo problema parliamo ora delle reti con le doghe montate nei supporti interni al telaio ed è generalmente il caso delle reti con struttura metallica o di alcune reti in legno quando i supporti porta doghe sono incastonati all'interno del telaio il lavoro si complica un po perché in questo caso non c'è modo di agire sul porta doghe ma è necessario flettere la doghe che è generalmente realizzata in legno a multistrati di faggio o in altro materiale flessibile che di solito ha una sua leggere naturale curvatura quindi per montare la doga dovrai fare leva sulla naturale curvatura della doga stessa per poterla flettere ed inserire nei rispettivi porta doghe incastonate all'interno del telaio ma come fare potresti per esempio agire incurvando la doga utilizzando le mani se ce la fai ti basterà inserire un'estremità in uno dei due porta doghe poi sfruttando la naturale flessibilità della doga accentuerai con le mani la curvatura centrale fino ad arrivare ad inserire la doga nel porta doghe opposto per fare questo è necessario però una discreta forza quindi se non sei così forte e se non ce la fai potresti utilizzare qualche piccolo stratagemma per aiutarti a flettere la doga in modo tale da poterla infilare agevolmente nelle proprie sedi per esempio potrai farlo aiutandoti con un borsetto da falegname due cubetti in gomma oppure l'aiuto di altre due doghe utilizzate come spessore centrale a questo punto ti sarai però chiesto ma piegando troppo le doghe non si rompono bene la risposta è che sicuramente la doga ha un suo punto di rottura quindi bisogna stare molto attenti questo è chiaro per fortuna questo punto di rottura è maggiore rispetto alla piega che ti servirà per poterla inserire nel proprio supporto altrimenti neppure in fabbrica sarebbero riusciti a montare le doghe nei porta doghe interni alla rete bene io spero che a questo punto tu abbia capito come inserire le doghe nei supporti della tua rete eletto e spero anche che tu debba avere a che fare con dei porta doghe aerei perché sono estremamente più facili da manipolare anzi se dovrai comprare una nuova rete ricorda di optare per questo tipo di porta doghe così ti sarà più semplice montare la doga se in futuro dovessi avere bisogno ma ricorda prediligi sempre 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 non la rete più scontata o quella che ti seppellisce di regali ma visto che ti sto parlando di porta doghe preferisci quella con i supporti più durevoli meglio se sono aerei spenderai un po di più sicuramente ma sarà sempre meglio che dormire coi buchi nel letto perché ti sono cadute le doghe per terra quindi se nel frattempo hai voglia di approfondire l'argomento il sito giusto è www.savoldi.net da matteo savoldi è tutto alla prossima